Buongiorno, sono Giulio Del Mastro, sono il redattore capo della rivista informativa dell'Associazione Italiana Odontoiatri. Questa rivista si chiama Prospettiva Odontoiatrica, in questo contesto noi festeggiamo il decennale della sua nascita. È una rivista che è nata principalmente per connettere fra loro i vari operatori del settore odontoiatrico e via via si è sviluppata diventando prima un organo informativo che riportava delle notizie di prima mano, successivamente si è trasformata in un organo informativo che propone degli approfondimenti e focalizza il pensiero dell'Associazione sulle tematiche che sono pregnanti per il periodo in cui la rivista viene pubblicata. Ha una diffusione molto capillare, una diffusione che raggiunge circa 18.000 colleghi in tutta Italia e viene distribuita anche digitalmente sul nostro sito web che vi invito ad andare a visitare. La versione digitale è successiva alla sua presentazione cartacea che di solito avviene nel contesto delle rassegne più importanti del settore odontoiatrico quindi l'Expo Dental a Milano e gli amici di Bruc di Rimini e come dicevo festeggia quest'anno il decennale della sua nascita ed è stata una rivista che ha caratterizzato nel tempo la posizione e il pensiero sindacale dei vari presidenti che ci sono succeduti. Una possibilità e una vetrina per l'associazione nei confronti del settore odontoiatrico e la possibilità per i nostri colleghi di apprezzare anche se non iscritti all'associazione il pensiero dell'Associazione Italiana Odontoiatri.